In chiste addossi a raggi tra gli italiani spiati, anche il consigliere regionale tervigiano del Partito Democratico Andrea Zanoni mi hanno minacciato di morte e racconta potenziata la sorveglianza delle forze dell'ordine. Utilizzavano un software per modificare il valore degli incassi e pagare meno tasse nel mirino della finanza 4 gelatai e pizzaioli trevigiani residenti in Germania sequestrati beni per 220.000 euro. Bancomat ha fatto esplodere nella notte a Vittorio Veneto a Forte Buato avvertito in piazza a San Giacomo di Veglia la banda criminale in fuga con un ingente bottino. La salute mentale è una nostra priorità, così il direttore dell'Ulse due benazzi aumentati del 20% gli accessi ai servizi psichiatrici, in crescita il numero di pazienti minorenni. La contrattazione sociale dei sindacati nei comuni della Marca per migliorare i servizi servono più risorse, dicono CGL e Cisle Will e per ottenerle sono inevitabili le fusioni. La deputata trevigiana Rachele Scarpe in viaggio verso Gaza a seguito di un convoglio di aiuti umanitari, l'arrivo il 5 marzo presente una delegazione di altri 13 parlamentari, disastro umanitario. Lo scrittore e giornalista trevigiano Tony Venturato ha un sogno permettere ad altri atleti affetti da disabilità come lui di correre la Maratona di New York e per questo ha dato il via ad una raccolta di fondi. Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri telegiornali, dunque l'avete sentiti questi titoli ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporvi questa sera e riguarda le dichiarazioni dell'europarlamentare Darè che avrebbe detto cretino a Salvini. Dunque lo vedete in sovraimpressione, Darè va espulso dalla Lega, se siete d'accordo e quindi in verde il sì, 0422 1626691, se invece non siete d'accordo quindi in rosso il no, 0422 1626690, l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di questa sera Ring. E dunque l'avete sentito, è monitorato costantemente dai carabinieri Andrea Zanoni, destinatario di pesanti minacce di morte, lo ha rivelato lui stesso, ha preso la notizia che il suo nome è nella lista del finanziere Pasquale Estriano di cui tanto si parla in queste ore e non è con nome Venno, ci sono anche tra gli altri i ministri Urso e Casellati, il sindaco Brugnaro, il virologo Palù e il manager Benetton Gianni Mion. Esplicite minacce di morte, se continuo ancora per la mia strada mi è stato promesso che mi faranno fuori, queste sono minacce anonime, arrivate con una lettera anonima, sta di fatto che dal giorno dopo del deposito della querela ho spesso i carabinieri che passano sotto casa, probabilmente qualcuno è anche preoccupato di questo tipo di minacce. Volto storico dell'ambientalismo e animalismo veneto, Andrea Zanoni esce allo scoperto e rivela il quadro di intimidazione al quale è sottoposto da qualche tempo, gli inquirenti stanno indagando a tutto campo per capire chi possa celarsi dietro la missiva. La rivelazione arriva nelle ore in cui il nome di Zanoni compare nella lista delle persone, politici, VIP manager e non solo, di cui il finanziere Pasquale Estriano accanto a una rete di una quindicina di persone avrebbe cercato informazioni entrando in archivi riservati anche dell'Agenzia delle Entrate, il famigerato database serpico. Subito mi sono chiesto ma chi è che avrà chiesto a questo finanziere di Roma che io non ho mai conosciuto in vita mia di scavare e di fare un dossier nei miei riguardi e chi è il mandante. Domanda a cui lo stesso Zanoni cerca di rispondere e c'è da capire se minacce e dossieraggio siano in qualche modo collegati. Ad esempio da un anno a questa parte mi sto occupando in maniera molto approfondita della questione della superstrada pedemontana Veneta, questo è un affare grosso, questo è un affare molto importante, è un cantiere importantissimo. Il dossieraggio abusivo avrebbe riguardato oltre a Zanoni altri Veneti come il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, presidente del Movimento Nazionale Coraggio Italia, la ministra padovana Maria Elisabetta Alberti Casellati, il collega Adolfo Urso, la senatrice Vicentina ed ex ministra Erika Stefani, il medico trevigiano Giorgio Palù, ex presidente di AIFA, l'Agenzia del Farmaco che sul Corriere della Sera ha affermato come la cosa, non lo preoccupi, non ho nulla da nascondere ha detto Palù, nella lista anche l'ex manager della Benettona Gianni Mion e mentre Matteo Salvini parla di un attacco alla democrazia e forse Italia di uno scandalo è partita un'inchiesta da parte della procura di Perugia. Io ho massima fiducia nella magistratura, devono fare sicuramente tutti gli accertamenti del caso, sta di fatto che è abbastanza inquietante sapere che c'è chi vuole scoprire non si sa che cosa, io sono tranquillissimo perché non ho nulla da nascondere, probabilmente avrò pestato i piedi a qualcuno perché mi occupo molto di grosse infrastrutture, mi occupo di reati ambientali e probabilmente qualcuno mi voleva fermare e naturalmente non c'è riuscito. Parliamo ora di evasione fiscale, utilizzavano un software per modificare il valore degli incassi a fine giornata e pagare meno tasse nel milenio della Guardia di Finanza, 4 trevisiani residenti in Germania sequestrati beni per 220 mila euro. Le autorità tedesche infatti hanno accertato che queste persone utilizzavano un software prodotto da un'azienda friulana che consentiva di modificare i risultati degli incassi, quindi a fine serata a fronte di 1000 euro di incassi per le pizze o per i gelati bastava un clic, bastava un tasto e questi incassi venivano dimezzati. Nel mirino della Guardia di Finanza, 4 trevisiani residenti in Germania, proprietari di pizzerie e gelaterie. Emigrati all'incirca negli anni 90, i ristoratori sono stati coinvolti in indagini da parte dell'Agenzia Statale Fiscale Tedesca che ha fatto emergere che gli interessati con l'applicazione del software che alterava il valore degli scontrini non solo hanno pagato imposte minori rispetto al dovuto, ma hanno anche commesso frodi tributarie penalmente perseguibili in territorio tedesco. Sequestrati tre appartamenti posseduti dai quattro ristoratori nel territorio trevigiano i soldi nei loro conti correnti per un totale di circa 220.000 euro. Le autorità tedesche, sfruttando dei canali di cooperazione con l'Unione Europea che sono ormai molto stretti, molto fitti, hanno chiesto all'autorità giudiziaria italiana di operare il sequestro sulle disponibilità sui conti correnti e sugli appartamenti ancora intestati a queste persone. Quindi noi come Guardia di Finanza abbiamo ricevuto questa attivazione e abbiamo eseguito questi provvedimenti di sequestro. Sono stati due carabinieri liberi dal servizio ad essere intervenuti dopo essersi qualificati per sedare una violenta lite scoppiata in via Canova a Treviso tra due giovani sabato sera, mentre uno dei due ragazzi si è immediatamente allontanato, l'altro 22enne del posto in evidente stato di alterazione ha continuato di inveire con frasi oltraggiose contro i militari opponendo resistenza. Una volta riportato alla calma il giovane è stato identificato e deferito in stato di libertà per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Fortunatamente né i giovani né i carabinieri sono rimasti feriti. Colpo in un supermercato di via Risorgimento a Trevignano di Signoressa. Alcuni malviventi hanno fatto irruzione nella notte forzando la porta antipanico ed asportando i soldi dal registratore cassa. Poi sono fuggite con un bottino di circa 2000 euro indagini dei carabinieri di Montebelluna. E continuiamo con la cronaca. È stato fatto saltare in aria il bancomat di San Giacomo di Veglia di Vittorio Veneto. La banda è scappata con alcune decine di migliaia di euro. Un vuoto avvertito dai residenti di San Giacomo di Veglia, frazioni di Vittorio Veneto. Nella centralissima piazza Fiume hanno agito in pochissimi minuti, almeno tre malviventi. Prima hanno messo fuori uso le telecamere con uno spray, poi hanno fatto saltare lo sportello automatico della filiale del credito cooperativo della banca della marca. Il colpo è venuto intorno alle 4 del mattino. I banditi hanno utilizzato un ordigno artigianale conosciuto come marmotta per far esplodere l'ATM. L'hanno inserita nella bocchetta erogatrice del bancomat che è stato divelto. Una deflagrazione che ha provocato alcuni danni alla struttura. Una parte del soffitto in cartongesso è caduto. Non solo, ma lo sportello è volato sull'asfalto. I malviventi hanno forzato le porte d'ingresso dell'istituto bancario e hanno fatto irruzione, arraffanto quanto denaro potessero. Poi sono fuggiti con il bottino alcune decine di migliaia di euro facendo perdere le tracce. I danni sono in via di quantificazione. La banca è rimasta chiusa ma tornerà operativa nelle prossime ore. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. Si stanno controllando le telecamere di videosorveglianza della zona e i targa system per cercare di risalire alla banda. A gennaio erano stati fatti saltare due bancomat a Quinto e a Colso Martino. Indagini per accertare se dietro a questi colpi ci possa essere la stessa banda. Nuova udienza in mattinata in tribunale a Treviso del processo a carico di Moira Ferrari, la direttrice tecnica della società sportiva Gymnasium di Treviso, chiamata a rispondere di un ceffone dato ad una delle sue atlete, una ragazzina, dopo una caduta dalla trave. A deporre oggi allenatrice e istruttori, un atleta e il funzionario di polizia giudiziaria che ha svolto le indagini. In aula è stato confermato il clima di severità e rigore che si respirava in palestra ma il nodo da sciogliere è se l'istruttrice andasse sistematicamente oltre nei suoi metodi educativi. Tanto che la famiglia della ragazzina che si è costituita parte civile auspica che l'accusa d'abuso dei metodi di correzione venga aggravata in maltrattamenti. Prossima udienza, quella decisiva, il 24 di giugno. E cambiamo argomento. La salute mentale resta una nostra priorità. Passiamo al lavoro per dare risposte al territorio. Per garantire il servizio abbiamo anche 11 incarichi libero professionali al Dipartimento di Salute Mentale dati a psichiatri. Così il Direttore Generale Benazzi dopo la protesta la settimana scorsa a Castelfranco per il trasferimento di tre psichiatri. Il Covid ha fatto da detonatore ad un fenomeno di cui si avevano già avvisaglie prima della pandemia. Questa è l'analisi dei Dipartimenti di Salute Mentale dell'USL2 che assistono oltre 2.000 utenti e che rispetto al periodo antecedente all'emergenza sanitaria da coronavirus hanno registrato un incremento delle richieste del 20% che vanno di pari passo con una diminuzione dell'età dei pazienti. Già a 16 anni, infatti, si evidenziano i primi segnali. Da cui l'importanza di rafforzare la rete con i medici di base perché facciano da filtro per intercettare gli esordi dei disturbi. Dopo la protesta davanti al municipio di Castelfranco per chiedere una maggiore attenzione sul tema è il direttore Benazzi a fare il punto. Questa è una delle prime priorità, è importantissimo insieme alla lista dell'attesa. Andremo sostanzialmente a potenziare gli psicologi e gli educatori. In merito al trasferimento di tre psichiatri dal distretto di Asolo viene spiegato che uno di questi ha vinto un corso per passare al CERD, sogno che nutriva da tempo. Una dottoressa invece, su richiesta della regione, si occuperà di salute mentale a Venezia e un terzo, per motivi familiari, ha chiesto il trasferimento al distretto di Treviso. Attualmente all'appello mancano una ventina di psichiatri nei territori dell'Ulse 2, carenza alla quale si darà risposta grazie al lavoro di educatori e psicologi. Una trentina, quelli in graduatoria, che saranno assunti, figure che dopo la diagnosi dello specialista porteranno avanti il percorso di recupero e reinserimento nella società del paziente. È il progetto di vita avviato dall'azienda trevigiana. Rilevare quelli che sono i bisogni dell'utente e nel costruire quindi un progetto terapeutico individualizzato a seconda di quelli che rileviamo siano le aree da dover curare e soprattutto riabilitare. Un progetto terapeutico individualizzato, cucito come un abito sartoriale in base al paziente e alle sue abilità che vede fianco a fianco psichiatri, psicologi, educatori, infermieri, assistenti sociali, volontari e associazioni dei familiari. Passa attraverso l'inclusione, quindi il recupero delle abilità operative, la capacità lavorativa e tra questa anche l'autonomia abitativa. Ed ora invece parliamo dei parchiggi della nuova cittadella della salute. Il direttore generale dell'Ulse 2 risponde ai sindacati che avevano espresso la loro preoccupazione sulla possibilità che anche i dipendenti dovessero pagare il ticket in assenza di stalli liberi tra quelli a loro riservati. Assolutamente i nostri collaboratori non pagheranno nessun tipo di ticket. Nessun parcheggio della nuova cittadella della salute sarà a pagamento per i dipendenti dell'ospedale. Replica così il direttore generale Benazia le preoccupazioni della CGL sul possibile rischio per gli operatori sanitari di dover pagare il ticket laddove ad inizio turno non fossero liberi gli stalli gratuiti a loro dedicati. Assolutamente, voglio dire rassicurare i sindacati, ma mi interessa soprattutto i nostri collaboratori. I parcheggi che saranno all'interno della sbarra, perché è vero, ci sarà la sbarra, avranno un badge dipendente e potranno aprire la sbarra, entrare e poi proseguire, perché ci saranno 200 parcheggi vicino alla lavanderia, in quell'area tra SUEM e lavanderia e saranno gratuiti. Benazzi spiega che ai 373 nuovi stalli a pagamento ne saranno consegnati altri 300 gratuiti riservati ai dipendenti che vi accederanno con badge. Parcheggi che vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti, anche questi non a pagamento. Tutti gli operatori dell'ospedale troveranno posto senza dover pagare, rincare il direttore generale che spiega poi come sia lo studio la possibilità di ricavare ulteriori spazi di sosta nell'area Mom. C'era la disponibilità del Comune per poterci allargare con ulteriori parcheggi per i nostri collaboratori. Comuni senza fondi e risorse, i sindacati lanciano il grido d'allarme, servono più fusioni, è il tema principale sollevato dalle tre sigle per la contrattazione sociale del 2024, bilancio positivo per l'anno 2023, ha omitato il livello di esenzione all'addizionale IRPEF. Chiediamo una grande sinergia per favorire le fusioni tra i comuni, perché attraverso la fusione dei comuni ci sono risorse aggiuntive che arrivano dalla Regione, ma non solo, per favorire l'incremento dei servizi sociali. È chiara la posizione di CISL in linea con quella di CGL e UIL. Tema quello delle fusioni tra comuni al centro delle linee guida per la contrattazione sociale 2024. Le manovre finanziarie del Governo fanno sapere le tre sigle sindacali hanno sottratto risorse alle autonomie locali. Serve una grande alleanza tra le forze sociali e quindi anche gli enti, le istituzioni, la politica, perché il Governo non continua ad agire sulla leva del taglio e trasferimenti, perché nel taglio e trasferimenti ci sono danni inenarrabili alle comunità e alle persone che noi rappresentiamo. Sul tavolo anche la lotta all'evasione fiscale e il tema dell'abitare. I sindacati hanno infatti sollevato la questione delle case sfitte nella marca circa 40.000-6.000 solo a Treviso. Il lavoro in sinergia con i comuni per cercare di incentivare lo stanziamento di fondi PNRR è anche a favore della messa a disposizione di alloggi privati. Mancanze, quelle evidenziate, che riguardano anche la sanità pubblica. Notiamo le mancanze che forse non ne hanno colpa, però alla fine non riescono a dare risposte, adesso soprattutto sulla sanità e sul sociale. Temi non nuovi sul tavolo della contrattazione sociale degli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia. Sanità che, come ricorda Vigilio Biscaro, segretario Spicci, GL, nella provincia di Treviso si sta sempre più privatizzando e la mancanza di medici di base sta mettendo in difficoltà gli anziani che vivono nei piccoli paesi. Nonostante questo, il bilancio della contrattazione 2023 per i sindacati porta segno positivo. La questione fiscale, perciò l'addizionale, dove abbiamo aumentato ancora il livello di esenzione per diversi comuni. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ora andiamo alla politica estera in viaggio verso Gaza a seguito di un convoglio di aiuti umanitari i deputati veneti, Rachele Ascarpa e Alessandro Zan con una delegazione di altri 13 parlamentari. L'arrivo il 5 marzo, dalle Nazioni Unite il grido d'allarme senza una tregua, a rischio un milione di bambini. Siamo appena saliti in pullman, siamo per entrare nella fase operativa della spedizione, che è il viaggio attraverso la penisola del Sinai verso il Valle Codirafa. La trevigiana Rachele Scarpa, ma anche il padovano Alessandro Zan sono i due veneti della delegazione di 15 parlamentari italiani dell'opposizione, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, operatori umanitari e 13 giornalisti in viaggio verso Gaza per seguire il percorso di un convoglio di aiuti umanitari raccolti dalla rete Aoi con Amnesty Italia. Oggi in realtà faremo tappa ad Alarish e domani in realtà riusciremo ad arrivare al confine dove osserveremo i camion di aiuti fermi in attesa di entrare. Domenica 3 marzo la tappa al Cairo per una serie di meeting con le rappresentanze diplomatiche italiane in Egitto, agenzie delle Nazioni Unite e le organizzazioni per la difesa dei diritti umani. Tutte quante ci riportano una situazione senza precedenti di disastro e collasso di tutte le infrastrutture sociali e sanitarie e di vera e propria tragedia umanitaria. Il dato più allarmante che ci hanno riportato oggi è questo. Se non si interverrà immediatamente con un cessate il fuoco immediato e permanente noi rischiamo di avere nei prossimi sei mesi altre 85.000 morti oltre alle 30.000 che già sono avvenute. Un milione di bambini a rischio il grido d'allarme per un cessate il fuoco immediato. Il viaggio della delegazione attraverso la penisola del Sinai alla volta del valico di Rafa. Il 5 marzo l'incontro con le organizzazioni umanitarie che stanno operando in territorio palestinese. Paura questa mattina a Villorba per la caduta a lungo via Franchini di un albero secolare di una storica residenza. Fortunatamente in quel momento nessuno stava transitando lungo la strada. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'aria e spostato la pianta. E andiamo a Ponte di Piave. Inaugurata una via pedonale che collega la ferrovia al centro del paese. Strada che è intitolata Marino Cordaire politico fra le fila della democrazia cristiana. Presente alla cerimonia il figlio Paolo presidente del Tribunale di Udine. Sono stati i ragazzi del coro Mani Bianche del Veneto ad aprire la cerimonia cantando anche nella lingua dei segni. Di fronte, emozionato, il figlio di Marino Cordaire, Paolo, presidente del Tribunale di Udine, che ha scoperto il cartello. La via intitolata al papà, originario di Ponte di Piave, politico negli anni settanta, fra le fila della democrazia cristiana, due volte in carica come sottosegretario all'interno. La sua passione per la politica è l'attaccamento alla comunità. Non ha avuto la possibilità di fare il sindaco che riteneva il mestiere più nobile e più formativo fra i mestieri della politica. Io sono sicuro che lui nel suo cuore avesse il recondito desiderio, la recondita speranza, un giorno di provare a fare il sindaco di Ponte di Piave. La sua. Una scelta voluta dall'amministrazione comunale di Ponte di Piave. Ha voluto rendere omaggio e nel contempo preservare la memoria di un grande uomo politico è il frutto di un sentimento di riconoscenza verso un cittadino che prima ancora di essere un rappresentante dello Stato è stato un garante della nostra Costituzione distinguendosi per l'allevatura morale e la profonda convinzione nei principi e nei valori umani di solidarietà e testimone della Pietas Cristiana. Una giornata per ricordare l'onorevole Corder scomparso prematuramente. Le testimonianze di chi ha lottato politicamente a suo fianco e le emozioni del figlio e della nipote Francesca di fronte a quel cartello, a quella via. Lo scrittore e giornalista trevigiano Tony Venturato ha un sogno per mettere ad altri atleti affetti da disabilità come lui di correre la maratona di New York per questo ha dato il via ad una raccolta fondi. Il pianto liberatorio, la gioia, l'abbraccio con chi l'ha guidata dalla partenza al traguardo della maratona di New York lei è Kay, ragazza americana affetta da sindrome di Down che ha marciato, camminato e corso gli ultimi chilometri prima di ricevere la medaglia. La vita di Kay è cambiata completamente dopo questo arrivo tant'è vero che è diventata ambasciatrice a sua volta e sta portando ai suoi pari, quindi a chi soffre di quella sindrome la volontà di percorrere quei chilometri. Kay ha realizzato il suo sogno grazie all'associazione Achilles di cui fa parte anche Tony Venturato giornalista, scrittore trevigiano all'attivo 4 maratoni di New York lui è diventato ambasciatore della corsa americana nonostante il grave incidente motociclistico di cui è rimasto vittima qualche anno fa che gli ha causato una lesione al midollo spinale prima una diagnosi che pesa con un macigno poi il lungo percorso di riabilitazione il recupero fino ad arrivare alla maratona nella Grande Mela ora Tony ha un desiderio permettere ad altre persone disabili di percorrere quei 42 chilometri. È bello vedere che queste persone disabili una volta che tagliano il traguardo cambiano completamente, hanno un change Ma per un atleta disabile partecipare alla maratona new yorkese significa superare diversi ostacoli dalla logistica ai costi, circa 1000 dollari da qui la decisione di dare il via ad una raccolta fondi Chiediamo una mano una piccola goccia fa un fiume tanti fiumi fanno gli oceani quindi è possibile effettivamente creare qualcosa di bello La prossima maratona si correrà a New York il 3 novembre Tony è pronto ad accompagnare altri atleti con disabilità fino al traguardo Io l'altro giorno ho ricevuto l'ennesimo invito ufficiale da parte degli organizzatori della maratona di New York sto valutando mal che vada non la correrò la camminerò con gli amici disabili Giovedì in diretta dalle 20.30 su Antenna 3 il processo di Ponte Dante a Treviso il rogo della veccia sul Sile i protagonisti principali gli avvocati dell'accusa e della difesa che incontriamo questa sera Io sono l'accusatrice Checa Busona della famiglia dei Zicarotti E lei la pubblica accusa del processo di Ponte Dante un ruolo delicato ma non tanto per la sfilza di cose che non vanno da raccontare quanto perché la giovane Tatiana porta avanti un'eredità importante Più che in difficoltà a fare l'accusa perché tanto a criticare siamo tutti bravi è difficile prendere il posto di Franco Crespan questo mi smette sempre un pochino non a disagio però è difficile riuscire a rendere come aveva reso lui Un processo che Franco Crespan con il maestro Angelo Smeazzetto e Maurizio Meneguz più di 50 anni fa hanno voluto fortemente ridare alla città sulla scia della prima edizione istruita addirittura nel lontano 1881 su ispirazione del conte burlone Tita Rinaldi Una lunga storia dunque ma in fondo sempre la stessa Cosa si prova a partecipare a un evento che è di fatto unico al mondo? Beh, è emozionante perché tutta la parte prima di preparazione sai che quando comunque inizierai a parlare comunque a fare l'accusa avrai di fronte tantissime persone più diciamo contenta dei sorrisi dei cittadini più preoccupata perché punzicchi le istituzioni più contenta dei sorrisi dei cittadini anzi speriamo anche che magari qualche accusa che cerchiamo sempre di fare in modo corretto possa anche essere di ispirazione un motivo di migliorarsi Ben altri obiettivi ha invece ogni anno il difensore l'avvocato Ilde Brando Imega avvocato ma non si è stufo di perdere sempre le cause No, perché quest'anno vincerò a Mambasse perché l'accusa, l'accusa ha se muoge quest'anno non ha stoffa, non ha argomenti e anzi, sai tu cosa che ti dico? guarda cosa che ho portato vuoi fare un omaggio? un pacchetto di fasoetti che si asciuga le lacrime dopo che ha perso quest'anno vincerò a Mambasse perché l'anno bisesto l'accusa sarà un disastro l'appuntamento è giova di sera giova 7 8 e mezza al Ponte Dante e sarà dove esistere il mio trionfo e in diretta anche su Antena 3 e se piove sabbo sempre a stessa ora e se piove ancora e speriamo di no che altro giova ancora? ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia indetto lo sciopero generale nazionale per l'8 marzo festa della donna anche a Belluno l'evento sarà un'occasione di dibattito sui temi della violenza di genere e pari opportunità l'8 di marzo anziché con le mimose si scenderà in piazza con striscioni e manifesti per rivendicare i diritti e la tutela non solo delle donne ma di tutte le persone vittime di discriminazioni l'8 marzo transfeminista è una giornata di sciopero nella quale ci sono rivendicazioni non solo contro la violenza di genere sulle donne ma la violenza di genere in genere e tutte le discriminazioni diciamo non solo quelle verso l'universo femminile a promuovere l'iniziativa assieme a non una di meno ai sindacati e alle associazioni femministe la rete degli studenti medi perché la scuola si legge nel manifesto dell'evento necessita di una rivisitazione strutturale e di diventare fondamento e rappresentazione di una società più inclusiva Chiediamo che all'interno delle scuole vengano fatti dei percorsi di formazione e di educazione non solo al consenso all'affettività ma anche all'inclusività alla diversità e quindi che le scuole diventino degli spazi sicuri per tutti gli studenti Chiediamo che finalmente finisca questo oltraggioso comportamento di discriminazione in un contesto in cui si subiscono ancora violenze di genere un contesto in cui ancora si suddividono le persone in categorie L'appuntamento l'8 marzo dalle 9.30 in Piazza dei Martiri Saremo in piazza studenti, lavoratori, lavoratrici tutti insieme a portare le nostre rivendicazioni una lettura di quello che ci circonda con i nostri occhi attraverso i nostri occhi attraverso le nostre soluzioni Le sentenze della Cassazione pongono fine ad una questione annosa nella quale la provincia ha sempre cercato di tutelare il bene acqua e il patrimonio ambientale e paesaggistico i proponenti avevano chiesto il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico e avevano successivamente impugnato il parere negativo di compatibilità ambientale e di competenza regionale Concessioni idroelettriche nuove centraline non se ne faranno la provincia di Belluno ha applicato correttamente la direttiva derivazione nei procedimenti di propria competenza per le istanze di rilascio a dirlo sono le ultime sentenze delle sezioni unite della Cassazione relative ad alcuni ricorsi presentati da quanti avevano visto respinte le richieste per la realizzazione di nuove centraline La tutela del territorio passa anche attraverso interventi che tutelano l'utilizzo del bene acqui dalle sentenze della sezione unita della Corte di Cassazione su alcuni ricorsi in applicazione della direttiva derivazioni sono stati procedimenti molto complessi con lunghissimi istruttori in cui la provincia competente in materia si era espressa e la conferma dell'applicazione appunto di questa direttiva per noi è un grandissimo risultato ma non solo comente ma soprattutto perché fissa un principio importante nella tutela dell'ambiente La questione specifica riguarda i progetti di realizzazione di impianti idroelettrici sui torrenti Federa Rubosco e Bigontina a Cortina sul Serzana a Voltago a Gordino e sugli Era a Canale d'Agordo per i quali la Cassazione si è pronunciata mi interessano ancora da definire i giudizi afferenti a impianti idroelettrici sul Boite e sul Digon I giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano un'occasione per far conoscere al mondo intero le bellezze del Veneto ma soprattutto per creare nuove opportunità di lavoro e di crescita per i giovani lo sport educazione occasione di sviluppo e attrattività del territorio in termini di professionalità opportunità per generare nuovi modelli organizzativi questo è lo spirito con cui quasi 600 studenti sono stati coinvolti in una mattinata di approfondimento presso l'Alexander Girardi All di Cortina istituzioni federazioni e giovani assieme per parlare di sport e stili di vita un'occasione per Regione Veneto Fondazione Cortina e Ufficio Scolastico Regionale di annunciare la sottoscrizione di un protocollo d'intesa sostenuto con un contributo di 200.000 euro che si pone l'obiettivo di preparare i ragazzi ad affrontare le sfide e le opportunità che i giochi olimpici e paralimpici invernali porteranno con sé oltre all'eredità che lasceranno sul territorio questo uno dei messaggi esternati alla platea di studenti affluita nell'Alexander Girardi All queste olimpiadi sono una grande occasione per far crescere un nuovo mondo che è fatto di curvature sportive delle scuole fin dalle scuole elementari che significa attrattività per la montagna perché avere una scuola di montagna che si occupa di attività sportiva principalmente nella carriera atleta studente significa anche attirare magari nuove famiglie gli atleti più capaci poi vuol dire anche che questi grandi eventi portano attrattività in termini professionali le iniziative che verranno promosse punteranno ad educare le nuove generazioni ai valori del rispetto dell'amicizia del fair play per diffondere la cultura dell'inclusione delle pari opportunità abbattendo le barriere per promuovere la partecipazione di tutti per ispirare i giovani ad avvicinarsi allo sport e ad adottare uno stile di vita sano e attivo i giovani non possono che essere il motore di questa di questa grande possibilità e dobbiamo tutti quanti il prima possibile consentire la comprensione di questo grande valore che l'olimpismo e la possibilità che la regione Veneto ci sta dando a tutti noi debba diventare storia di questo paese appuntamento con la tradizione da non perdere giovedì 7 marzo su Antenna 3 dalle 20 e 30 in diretta da Ponte Dante come ogni anno vi racconteremo il processo alla vecia di Ponte Dante lo spettacolo di una comunità che pur sorridento ha il coraggio di criticarsi pubblicamente festa tradizione risate per un appuntamento immancabile e questa era la nostra ultima notizia vi lascio alle previsioni del tempo grazie davvero per averci seguito arrivederci Entra nel mondo l'olato da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita centro del piede con servizi di podologia laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura ben trovati al meteo dopo il forte maltempo di questi giorni le condizioni saranno ancora instabili anche per buona parte della settimana vediamo insieme il dettaglio sul Veneto la grafica di martedì 5 marzo evidenzia una forte variabilità nella prima metà di giornata avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti dal pomeriggio nuvolosità in aumento e di sera piogge sparse quota neve sui 1400 1500 metri le temperature saranno in aumento minime tra 3 e 8 gradi massime tra 15 e 17 gradi spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia al mattino sarà soleggiato in seguito aumento della nuvolosità sulla zona montana e sulla pianura saranno possibili rovesci sparsi altrove più asciutto temperature minime sui 5 e 7 gradi massime intorno ai 15 18 gradi infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove sarà in buona parte soleggiato ma con nubi in aumento e in serata nuove precipitazioni temperature minime sugli 8 gradi massime sui 18 all'incirca dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci busti, tutori e protesi di arto personalizzati ortopedia e sanitaria Lolato Atreviso e Montebelluna Lolato soluzioni per star bene